Da quella parte! Ehi! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Via! 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 Non puoi fuggire ora! Non puoi fuggire ora! Accidenti, è ora! Sei morto, Drake! No, sei mio! Maledizione! No! Sei morto, Drake! Maledizione! 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 Sei mio! Maledizione! 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Forza! Ce la fai? Ok, tutto ok. Fai bene? Nate! Attenzione! Adios, impecigli! Oh, Dio! Che giornatina! Già, salva il mondo, trionfa sul male! Una giornata tipo. Infatti. È un peccato, però, andarsene a mani vuote. Oh, beh, sai, sono riuscita a salvare una cosetta. Tieni. Pensavo che l'avresti persa. Grazie. Già. Voi due avete una strana idea di romanticismo. Sally! Wow, hai... hai un aspetto orribile. E dovresti vedere gli altri. Procuraci una barca. Eh, abbiamo già una barca. Già, una grande barca. Questa mi piace di più. Sally! Straordinario figlio di... L'ho presa da un paio di pirati che erano troppo morti per obiettare. Mi dispiace che non hai avuto la tua storia. Eh, non importa. Ci saranno altre occasioni. E me ne devi ancora una. Puoi contarci. Grazie a tutti.